Siamo arrivati fin qua, ringrazio veramente tutti, non ho niente da dire, non sarei mai immaginato, stasera speriamo di spaccare tutto e di passare, prossima data anche a palazzi, si spera, intanto vi ringrazio tutti, sia quelli che sono inutili, sia quelli che non hanno potuto, grazie a CMP che ci sostiene sempre, e DCS, dai ragazzi, per noi dobbiamo qualcosa, vabbè, e ora ci ritroviamo al Factory di Milano, un posto della Madonna, ragazzi mi faccio una foto con il mio cellulare, e probabilmente suoniamo a Calacra se riusciamo a 10, quindi uno, vorrei ringraziare tutti, tutti quelli che ci seguono, tutti quanti che ci aiutano, cioè veramente io mi commuogo, ogni tanto becco qualcuno che fa gli DCS e dico cazzo sono io, la mamma di Troia! Ciao a tutti, sono Margherita, la cantante di The Liracotic Sound, sono qui al Factory, sarà un concertone, dobbiamo spaccare i culi, dovevate venire, stronzi, e vabbè, un grazie mille a quelli che vengono, a quelli che ci continuano a sopportare per la band, e siete fantastici, simpatici, venite più spesso ai nostri concerti perché sono una figata, e c'è una cantante fantastica e spettacolare, e un fantastico fotografo, con tutte le balle che volete, e vabbè, grazie mille a tutti, ciao ciao! Buon pomeriggio dalla baracchetta strana dove mi ha portato il nostro CMP, che ringrazio. Oggi è una giornata importante perché suoneremo un live molto figo al Factory, un bel posto, e penso che spaccheremo un po' i culi. Oggi avremo un'esecuzione di due pezzi nuovi, il Rage e il Sadness, che non avete mai sentito, quindi spero vi piacciano. Il posto è figo, molto figo, e una cosa ai giudici dello Scatafascio, che se la prendano nel culo perché quello che faremo qua dentro non sarà nulla con quello che abbiamo fatto lì dentro, e lì dentro l'abbiamo fatto comunque molto. Ringrazio i fan che sono qui a vederci, ringrazio tutti quelli che sono venuti a vederci le altre volte, che ci hanno votato allo Spichisi. Chiudo, ci vediamo alla prossima! Ci vediamo in questo live sempre della Madonna, palco assurdo, grosso, bello, tutti carichi. Quindi, niente, ci vediamo qua, e c'è un CMP che ci sta facendo questo video, ricordiamo, c'è un CMP. Poi ricordatevi di noi, Direnaticotic Sound, potete trovarci sia su Facebook che su YouTube. Ciao ragazzi! Buonasera a voi i fan sostenitori, qua abbiamo un Gabri... Malato, però va bene, a noi ci piace, perché malato è più violento. Un ringraziamento speciale a voi che ci seguite sempre, che ci sostenete, grazie mille per quelli che verranno stasera, ma un grazie speciale anche a quelli che non ci saranno. Un grazie speciale a CMP. Esatto, che ci saranno questo videoblog, che ci fa un sacco di foto, video e quant'altro. Stay fucking DCS and Metal! Ciao! 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 Ehi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.